L'Europa per noi è stata fondamentale in questo periodo di difficoltà. Qualcuno dice che dobbiamo uscire dall'Unione Europea, ma io non mi immagino un'Italia fuori dall'Unione Europea, anche perché in questo momento di difficoltà non ci fosse stata l'Unione Europea, non so, però in futuro ovviamente sogno sicuramente un'Unione Europea più accessibile e più sensibile nei confronti delle divertità e dei vari temi sociali. L'esigenza di Antenne Europa a Settimo Torinese e l'interesse della nostra amministrazione nasce sicuramente da un'attenzione che il nostro comune ha nei confronti del contesto europeo. Ormai non si può prescindere dalla partecipazione attiva delle amministrazioni locali, degli enti territoriali rispetto alle realtà sovranazionali. Quindi il principale dialogo che si può avere si articola in senso orizzontale come cooperazione con gli altri enti, ma al tempo stesso in senso verticale. Quindi in prima battuta con gli enti nazionali, la Regione, lo Stato, però sicuramente ormai il dialogo costante e continuo con le istituzioni europee è un valore da promuovere. Per me l'Europa è un posto da visitare. Io ho partecipato a diversi scambi con l'Informa Giovani di Torino e sono contentissima che esista un'antenna adesso anche qui a Settimo e che abbia voglia di migliorare e di aggiungere nuove opportunità. La nostra amministrazione punta a promuovere tutta la cultura europea e quindi in generare nei nostri cittadini la consapevolezza che si è non soltanto cittadini italiani ma cittadini europei. Sicuramente lo spirito e la cultura europea si possono respirare nella nostra biblioteca multimediale. Nel contesto scolastico perché portiamo all'interno delle scuole per promuovere con i giovani il senso civico e la consapevolezza di essere cittadini europei. Puntiamo molto a recepire sul nostro territorio due principali capisaldi della cultura europea che sono la sostenibilità sotto forma innanzitutto di sostenibilità ambientale e l'inclusione. Settimo Torinese è infatti nota per ospitare uno dei più importanti centri di accoglienza e il centro Fenoglio. Applichiamo, attuiamo delle politiche per far sì che gli ospiti del centro si possano inserire attivamente e possono essere parte della nostra comunità. L'Europa dà l'opportunità a noi giovani di realizzare i nostri progetti e quindi i nostri sogni. Spero che questo anello di congiunzione tra l'Europa come ente grandioso e il territorio di Settimo possa svilupparsi in futuro grazie allo sportello di Antenna Europa. I cittadini settimesi rispondono molto attivamente con grande entusiasmo a tutte quelle che sono le iniziative dell'amministrazione che puntano al coinvolgimento delle istituzioni europee. Ogni qualvolta ci sono dei progetti che si riverberono nei diversi contesti che sono quello culturale, quello sportivo, quello scolastico o anche quello industriale perché Settimo Torinese vanta un gran numero di industrie. In quel momento e in quel contesto la partecipazione dei cittadini è attiva così come anche in Consiglio Comunale. Abbiamo i gruppi consigliari che si occupano di portare sui banchi del Consiglio le istanze della cittadinanza anche qualora interessino le istituzioni europee. Io penso che l'Europa in questo periodo sia stata molto presente e vorrei che fosse sempre così anche nel futuro per noi giovani perché in questo periodo ha fatto tanta informazione su se stessa mentre negli anni precedenti non l'ho percepita come entità reale quindi non ho anche percepito io stessa di far parte di un continente che è quello europeo perché l'ho sempre visto come un qualcosa di astratto. Le cose da chiedere all'Europa sono tante. Come amministrazione e anche come cittadina chiederei innanzitutto un'implementazione della partecipazione attiva degli enti territoriali alla vita delle istituzioni europee e una particolare attenzione ai nostri giovani. La Comunità Europea mette già in campo tantissimi tirocini ai quali lo stesso Comune di Settimo ha partecipato, ha aderito e sono delle esperienze non soltanto professionali ma sono delle esperienze di vita per i nostri ragazzi che tornando sul nostro territorio possono portare il valore aggiunto che hanno recepito vivendo in uno dei Paesi membri della Comunità Europea.